Un'unità di targata E.D. 669, in vista spostare, l'unità di accoglie. Un'unità di targata E.D. 669, in vista spostare, l'unità di accoglie. Un'unità di targata E.D. 669, in vista spostare, l'unità di accoglie. Un'unità di targata E.D. 669, in vista spostare, l'unità di accoglie. Un'unità di targata E.D. 679, in vista spostare, l'unità di accoglie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.